A Campli partiranno a stretto giro i lavori per la costruzione del nuovo polo scolastico previsto in località Piane Nocella e gli interventi di consolidamento del versante di Castelnuovo colpito dalla frana nel 2017, ma anche l'adeguamento sismico e l'efficientamento del polo scolastico di Marocchi nel comune di Santonofrio. Sono tre importanti notizie annunciate dal commissario straordinario del governo alla ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli, durante l'incontro organizzato nel comune camplese dedicato alla ricostruzione post-sisma. Numerosa la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, tecnici e imprese del cratere per discutere, confrontarsi e vedere le soluzioni finanziarie disponibili. C'è attenzione, c'è voglia, c'è un'esigenza assoluta di velocizzare la ricostruzione senza però dimenticare che accanto alla riparazione dei danni materiali è necessario curare la rivitalizzazione dei nostri borghi e del nostro cratere. Siamo qui perché ci sono importanti novità che riguardano la possibilità finalmente di stimolare economicamente le aziende, le imprese, le reti sociali grazie ai fondi del fotocomplementare Sisma. Siamo ormai prossimi alla definizione delle istruttorie e presto, anche nella zona terramana, ma non solo, potremo attivare nuove iniziative imprenditoriali che vanno proprio nel senso di dare un significato economico a questo nostro sforzo. Il commissario straordinario alla ricostruzione ha anche annunciato di essere in stretto contatto con il governo per cercare di garantire le continuità del super bonus nella ricostruzione. I correttivi sarebbero in fase di studio, diverse potrebbero essere le soluzioni per fare in modo che gli accogli continuino ad essere assorbiti dal super bonus e riaprire così la cessione del credito. Sin da subito ho avviato un'interlocuzione con il governo perché possa essere mantenuta la piena operatività del super bonus che, come è noto, si abbina al contributo da danno sisma. Da questo punto di vista io sono certo che non vi siano interruzioni di quella che è una necessità assoluta, ovvero quella di aggiungere al contributo per la riparazione dell'edificio anche ciò che è necessario per renderlo dal punto di vista sismico, adeguato o migliorato. Quindi io sono convinto che ci sarà una schiarità da questo punto di vista. Per il resto, fuori dal sisma, io credo che sia un decreto giusto e necessario perché salvaguarda tutto ciò che è in corso e tutto ciò che è stato validato formalmente. Lo dobbiamo dire. Nessuno perderà la possibilità di utilizzare la cessione del credito per i lavori che sono stati approvati e sono in corso. È una notizia che dobbiamo dare. Per il futuro si torna alla detrazione d'imposta perché? Perché troppi furbi avevano creato una bolla speculativa che rischiava di compromettere gli equilibri della finanza pubblica.